Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa Occhio e Giornali, come tutte le mattine siamo in diretta alle sette e mezza per leggere gli inserti dei tre principali quotidiani Carlino Corriere Messaggero. Allora, subito il Santo del Giorno, vediamolo insieme, oggi è Sant'Ilario di Poitiers, Vescovo, il sole è sorto alle sette e trenta e nove, tramonterà alle sette e cinquanta quattro, andiamo a vedere il tempo, oggi avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, domani giovedì invece il tempo peggiora, vedete nell'entroterra con la pioggia e le schiarite invece anche lungo la costa e venerdì lo stesso, temperature in aumento con tempo perturbato, va un po' meglio sul settore settentrionale della regione, ma insomma questa è un po' la situazione che ci attende, il tempo rimarrà instabile invece tra le giornate di sabato e domenica con temperature insensibile diminuzione. Allora andiamo adesso a vedere i giornali, cominciamo dalla prima pagina del resto del Carlino, vedete la fotografia in catene, prosegue la protesta sugli ospedali a Sasso Corvaro, i sindaci scelgono di incatenarsi davanti a Lanciarini, sabato il faccia a faccia con il presidente della regione Luca Ceriscioli. Questa è la prima pagina del resto del Carlino, entriamo dunque nelle pagine interne, nelle pagine interne c'è la notizia che l'uomo che ha investito, il fanese che ha investito al giorno di Natale in A14, quella famiglia che viaggiava, erano quasi all'uscita di Rimini Sud sull'autostrada, quel fanese che ha violentemente tamponato quella macchina e che ha causato due vittime, tra cui una donna, una mamma e un figlio di 9 mesi, guidava sotto l'effetto di cocaina. Ecco il titolo sul Carlino, gli esami accusano il cameriere, guidava sotto l'effetto della coca, l'incidente sulla A14 uscita per Rimini costò la vita a madre e bimbo, lo ha reso noto un'associazione, tra l'altro l'esito di questi esami, Amici della Polizia Stradale, un'associazione che ha reso noti risultati tossicologici che inguaiano l'autista fanese, ecco le immagini drammatiche di quella giornata, di quella mattinata, una notizia che fece il giro di tutto il paese con notiziari che hanno dedicato ampio spazio a questa tragedia. Evadeva l'IVA ma non troppo, assolto l'ex presidente del Montecchio, recente decreto legislativo alza la soglia lecita da 50 a 250 mila euro, l'indagine sul giro di false sponsorizzazioni delle squadre di calcio e non solo, ha preso avvio fin dalla stagione 2009-2010, Salvatore Sorrentino, con lui erano stati indagati altri quattro presidenti. Ancora dal giornale Banditi Accalorati rubano soldi e quattro scatole di Viagra, c'è stata una rapina a Pesaro, in due hanno assaltato la farmacia di Via Laurana alla chiusura e la dottoressa è stata chiusa in uno stanzino ma quando le hanno detto fuori soldi eppure quattro scatole di Viagra, lì per lì la responsabile della farmacia comunale, appunto Assoria, pensava che quei tipi stessero scherzando, invece avevano le idee chiare e intorno alle otto di ieri sera appunto si sono presentati in questa farmacia e hanno rapinato i soldi e naturalmente come abbiamo detto appunto anche le scatole di Viagra. Il prefetto invece Luigi Pizzi apre sulla nuova questura, la faremo all'ex intendenza di finanza, già riscontri positivi con il Demanio e il Ministero degli Interni, consentirà naturalmente di risparmiare questa scelta, è la soluzione al momento più concreto e realizzabile, presto faremo un'altra riunione. La pagina di Fano invece del Carlino apre con il palazzetto che riapre nel segno della solidarietà, politici, giornalisti, preti e volontari si sfidano in un quadrangolare di pallavolo per Federico Mezzina, il ricavato andrà infatti alla famiglia che cura il proprio figliolo, lo spettacolo oltre alle partite ci saranno show di ginnastica artistica e le imitazioni di Mazzancella. Poi sulla pagina di Fano del Carlino, area dell'ex distributore, siamo nella zona del Viale Gramsci, si al parco purché, come era una volta, purché sia recintato e le auto vadano altrove. Noi città boccia l'idea di lasciare i posti ai parcheggi per le automobili. Apriamo il Corriere Adriatico. Sulla pagina di Pesaro il sindaco di Tavulia accelera sulla terra dei motori, T-Lab Museum, un tempio per Valentino Rossi, il campione di motociclismo, lo vedete in questa fotografia con l'allora era presidente della provincia Ricci, oggi sindaco di Pesaro, mentre qua a fianco il sindaco di Tavulia, Francesca Paolucci. In regione adesso va per intercettare fondi europei. Progetto sperimentale, comunicazione innovativa e ricerca, ma anche luogo di interesse turistico. La cronaca, un giovane si impicca in un gazebo della piazza macerata, doveva entrare in una comunità, era stato accompagnato da Sasso Corvaro dal padre, si era stretto al collo la cintura dei pantaloni che ha fissato in un asse e l'ha fatta finita. Inutile negarlo, 12 ore, siamo a Fossombrone, 12 ore a rischio nell'entroterra, le ambulanze sono insufficienti, gli itinerari sono confusi, adesso si fanno anche le simulazioni per cercare di individuare le criticità, perché non avendo più un punto di pronto soccorso sotto casa, naturalmente bisogna capire bene come fare per arrivare in quello più vicino. La pagina di Fano invece è del Corriere, protesta accolta, parliamo di autobus, di tariffe di autobus, protesta accolta ma il biglietto non è diminuito, non è calato. Adria Bus pretende ancora una tariffa indebita per la tratta Fano-Metauriglia e i politici si erano presi meriti. A due mesi dalla comunicazione della regione per la corsa si paga 1,80 euro invece di 1,25. Rimanendo sull'autobus, stando fuori però, la pubblicità di un centro scommesso reclamizzato su un autobus pubblico sta facendo protestare i consiglieri del Movimento 5 Stelle che dicono che la pubblicità viola il regolamento comunale e dunque hanno preparato una nuova interrogazione. Mentre sempre sulla pagina di Fano raffiche di vento fino a 60 km orari, disagi diffusi ma i danni sono stati comunque limitati. Al Palazzetto Sport si ritorna in piena attività, il Palace è stato bonificato, sabato sera l'inaugurazione con il quadrangolare di volley in campo politici e parroci. Bando in vista invece per gestire la Dini Salvalai. Questa è la notizia che troverete sulla pagina di Fano del Corriere. Venerdì invece, sempre parlando di sport, venerdì alla Mediateca Memo, sport, la storia continua. Imprese sportive tra passato e presente, venerdì 15 alle ore 17 nella sala della Mediateca Montanari in Piazza Amiani. Questa è la pagina di Fano dove tra l'altro c'è anche la notizia che al Carnevale saranno vietati gli ombrelli per prendere le caramelle, insomma i dolciumi, quelli che vengono usati al contrario. C'è il prendigetto infatti, il prendigetto tra l'altro una parte dei proventi della vendita di questi prendigetti saranno destinate alle terapie del piccolo Federico. Il Sindaco rinnova quest'anno il provvedimento per ragioni di sicurezza. Qualcuno dirà, se piove, andiamo sulla pagina di Fano e Valle del Cesano. Se piove il Carnevale non si fa. Baldelli mette a rischio il nostro ospedale. L'opposizione contesta la politica sanitaria del Sindaco, non tiene conto dello status del nosocomio. Caglie, Fossombrone e Sassocorvaro chiedono il riconoscimento di località disagiate che abbiamo noi. Poi Ceriscioli dice Federico Talè, consigliere regionale del PD che è stato sindaco di Mondavio. Ceriscioli dice assicurato che tornerà sui suoi passi. Tra l'altro Talè è anche membro della Commissione di Sanità regionale e fa il punto in questo articolo sulla riunione di lunedì sera. Apriamo adesso il messaggero. Anche qui naturalmente in apertura le dimissioni annunciate in massa dei sindaci. Regione sempre più rovente. A Sassocorvaro i primi cittadini incatenati davanti all'ospedale. Nel PD aria tesa. Da resa dei conti il governatore Ceriscioli andrà sabato la conferenza dell'area vasta, ma insomma si preannuncia caos. Il calcio. Il Vissino Giacomo Ridolfi. La Procura chiede per lui tre anni e otto mesi di squalifica per il calcio scommesse. Le immagini, dice lui, mi scagionano. Andiamo adesso sulle pagine interne. L'economia, la nostra economia, quella della provincia di Pesor Urbino, il mercato si risveglia ma ancora la ripresa viaggia a due velocità, dice il presidente di Confindustria Gianfranco Tonti. L'analisi tutta sua per le imprese quest'anno sarà sicuramente migliore comunque del 2015. Confcommercio, vedete Varotti, i negozianti continueranno a patire. La CNA invece, con sotto Moreno Bordoni, dice il settore del tessile è rimasto indietro. Sul nuovo ospedale invece si sceglierà Fosso Seiore e allora si preparerà un'altra rivolta. Forza Italia, nuovo centrodestra e Siamo Pesaro dall'opposizione di centrodestra pioggia di critiche. Andiamo sull'ultima pagina, quella di Fano, del messaggero. Il Santa Croce è in difficoltà. Ancora vedete il tema della sanità in primo piano. De Marchi elenca critiche e magagne nel confronto con il San Salvatore di Pesaro. Non tutto è perduto, vanno però ricalibrate certe recenti decisioni. Il nostro nosocomio sconta oltre vent'anni, dice ancora, dei marchi di politiche, di depotenziamento. Ora va costruita una rete di strutture a sostegno. E sotto ancora l'ambito sociale sta cambiando struttura e si confronta con più criteri operativi. E ancora notizie, tutti in campo per Federico Sabalto con il quadrangolare di volley. E poi stoppa i furbetti della velocità da San Costanzo, autovelox fissi lungo le strade. Quindi attenzione. Occhio giornali finisce qui. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.